Ci stiamo avviando alla conclusione di questo 2021 che tutti noi speravamo fosse un pochino diverso, purtroppo la pandemia non ha ancora allentato la sua presa, stiamo rischiando di arrivare in una fase nuovamente critica per il nostro territorio e per tutto il paese. Quindi prima degli auguri l'invito è quello di comportarsi secondo le regole, di fare molta attenzione, di vaccinarsi anche chi oggi è ancora scettico perché dobbiamo ripartire al più presto, non possiamo più permetterci di tenere ferma l'economia e di tenere fermo un paese. E quindi questi sono i miei migliori auguri, i migliori auguri di un sereno Natale a tutti i biellesi da parte mia e da parte di tutto il Consiglio regionale e come dico ultimamente di un 2022 di normalità. Sarebbe un grandissimo risultato perché vorrebbe dire che abbiamo sconfitto la pandemia e si può guardare quindi con rinnovato entusiasmo al futuro. Tanti auguri a tutti, veramente, di cuore.